Mi è piaciuto tantissimo il nostro carattere, dopo rimanere con i men in campo, quello che mi è piaciuto di meno è stato alla fine il risultato. Sono d'accordissimo, una squadra molto forte, una squadra che è lì in alto alla classifica e cercano di stare in Europa e noi per tanti minuti siamo rimasti in partita e abbiamo giocato la partita fino alla fine e questo deve dare grande fiducia per le prossime sfide che abbiamo. Abbiamo ancora un allenamento e penso sempre a mettere la migliore squadra per la prossima partita che è contro la Juventus, una partita difficile come tutte le altre che abbiamo affrontato fino a oggi e andremo di là a fare la nostra partita con lo stesso spirito, la stessa idea di giocarla fino alla fine. Penso che quelli che erano in campo in quel momento, se mi fai la domanda sulla Roma, erano quelli che stavano in condizioni e stavano bene per finire la partita e avere il risultato che dopo il contesto di tutta la partita volevamo noi che era finire la partita sul pareggio e non è andata così, ha vinto una squadra che ripeto è una squadra forte e costruita per restare in Europa, però dobbiamo essere tutti contenti da quelli che sono stati in campo perché hanno fatto un grossissimo lavoro e hanno tenuto la partita fino alla fine. Penso che prima andiamo alla fine del campionato si possono vedere delle situazioni del genere come noi abbiamo avuto anche noi in certe partite di vincere la partita all'ultimo minuto. è successo anche dall'altra parte, hanno vinto o ha vinto l'altra squadra contro noi all'ultimo minuto. La stanchezza ci sarà sempre alla fine della partita ma per tutte e due squadre c'è un lato anche emotivo perché quando vai fino all'ultimo, per esempio una squadra come la Roma che sicuramente voleva il risultato positivo, voleva la vittoria, si sbilancia un po' di più e va magari con più uomini o con più coraggio in avanti a cercare di vincere la partita come abbiamo fatto noi altre partite perché in quel momento lì ci sentivamo forti e avevamo la possibilità di andare a vincere la partita e abbiamo avuto il nostro risultato. Dobbiamo avere in conto sicuramente l'avversario che c'è davanti e per le prossime partite cercare sempre di gestire, di migliorare, di gestire questi ultimi minuti e portare il miglior risultato possibile della nostra parte. Il stesso lavoro no perché non abbiamo questa caratteristica in campo però abbiamo dei giocatori con caratteristiche diverse che possono fare tanto bene come ha fatto Kivior, ripeto con caratteristiche diverse, tanto bene come ha fatto Giacobbe in questo momento non mi preoccupa non averlo per questa partita anche perché abbiamo altri giocatori che possono o avranno l'opportunità di dimostrare che sono molto capaci di mantenere il livello, ripeto con altre caratteristiche perché è vero che la caratteristica di Giacobbe essendo un difensore centrale che è adattato come centrocampista ha dato un equilibrio nella nostra squadra e avremo un altro giocatore che giocherà e sicuramente lo farà molto bene. È una squadra che ha avuto all'inizio un momento di difficoltà però la realtà è che è una squadra fatta per vincere il campionato o comunque per restare in alto a provare di vincere il campionato fino all'ultima giornata del campionato e noi andremo come sempre, abbiamo fatto una buona settimana, abbiamo preparato bene, abbiamo ancora un allenamento per vedere tutte le situazioni possibili che abbiamo in squadra e cercare di fare una buona partita, una buona prestazione e vedremo alla fine quale sarà il risultato. Io vedo la Juventus perché la andremo ad affrontare, poi le altre quando magari sarà il momento di affrontarle ti posso dare un giudizio di chi è sta, chi non è sta, nel mio punto di vista però vedo la Juventus perché è una squadra forte la realtà è che come ho detto, tra virgolette, hanno stato in difficoltà all'inizio, poi oggi sicuramente è una squadra che ha tutte le possibilità di fino alla fine lottare per il campionato, voglio dire che è una squadra di valore è una squadra forte, una delle più forti in Italia, poi le favorite oggi non lo so, non è il nostro campionato diciamo è... Magari! Magari, magari!